Il ritardo, buongiorno, se posso chiedervi di lasciarci cominciare questa breve conferenza stampa, ritardo dovuto al fatto che l'incontro con la Presidente della Camera Laura Boldrini si è protratto, è utile, non avevamo dubbi su questo, tra l'altro Laura Boldrini è tra le firme che hanno accompagnato questa richiesta per la concessione dei benefici della legge Bacchelli a Riccardo Rioles, per cui eravamo particolarmente lieti di portare alla Presidente della Camera le 30.000 più firme che sono state raccolte come segno di una campagna che in pochi giorni ha dato un po' il senso di quanto sia importante per il Paese questa battaglia civile. Io dico poche parole, poi do la parola agli amici che mi accompagnano, sono il Presidente dell'Ordine dei giornalisti Jacopino, il Presidente della relazione della stampa Beppe Giulietti e Luca Salici, che è un giovane collega che si è occupato materialmente di avviare e di accompagnare la raccolta delle firme. Riccardo Rioles è mio amico e nostro sodale compagno di battaglie da quasi 40 anni, se esiste persona che merita che la legge Bacchelli dimostri la sua concretezza materiale, la sua efficacia, questo è Riccardo, per le condizioni faticose in cui si trova adesso, per l'età, per la salute precaria e direi soprattutto per il modo in cui ha speso questi ultimi 40 anni della sua vita. Riccardo Rioles non è soltanto uno di coloro che è assieme a me, ad Antonio Roppuzzo che è qui, ad altri colleghi e compagni ha fondato nel 1982 assieme a Giuseppe Fave siciliani. Riccardo è anche un maestro di giornalismo, di buon giornalismo, a partire da quell'esperienza, ancora prima a partire dall'esperienza del giornale del Sud, ed è una fucina, un'accademia di buon giornalismo che Riccardo ha onorato anno dopo anno, nelle redazioni del giornale in cui ha lavorato o semplicemente facendo il giornalista. Io credo che sia estremamente significativo, importante, degno per questo Paese, che la legge Bacchelli venga riconosciuta non soltanto a un intellettuale, ma a un intellettuale che ha messo la propria intelligenza e il proprio rigore morale al servizio della battaglia contro le mafie. Sarebbe la prima volta in Italia e credo che questo riconoscimento sarebbe non soltanto un riconoscimento dovuto da Riccardo e da lui apprezzato, ma sarebbe un riconoscimento che il Paese fa anche a se stesso, come dire, scrivere contro le mafie e sulle mafie, continuando a tenere la schiena dritta, insegnare che il racconto delle mafie ha come unica stella polare la libertà di chi scrive e la verità di ciò che viene scritto, è una condizione di straordinaria civiltà per un Paese e chi questo riesce a interpretare, come ha saputo fare Riccardo Rioles, rappresenta un patrimonio per l'intero Paese. Quindi questa è la ragione per cui non soltanto siamo felici che questo percorso stia arrivando al suo esito finale, ci auguriamo, rapido e positivo, ma siamo felici soprattutto del modo in cui è stato raccolto e accompagnato, non soltanto dalla Federazione dell'Ordine e non soltanto dalle più alte cariche della Repubblica, ma anche da decine di migliaia di persone che hanno voluto firmare. Molti tra costoro sono stati allievi in modo molto informale, senza accademi, senza liturgie, di quella scuola di vita e di scrittura che Riccardo ha rappresentato e che ha testimoniato nell'arco di questi 40 anni. Adesso darei la parola a chi mi accompagna, Presidente Jacopino. Vero poche parole. Le prime per ringraziare la Presidente della Camera, non per averci ricevuto, ma per il calore che ha messo nelle parole che ci ha detto, argomentando la sua convinzione sulla opportunità, sul dovere di concedere questo beneficio al collega Orioles. La seconda, ed ho finito, io credo che lo Stato abbia la possibilità di dire da che parte sta, perché si trova davanti ad un giornalista che sta pagando, vivendo in condizioni di difficoltà estrema, il suo impegno nella lotta alla mafia. Una lotta che dura da 40 anni, che ha combattuto assieme persone a persone che hanno lasciato la vita in questa battaglia. Ecco, lo Stato ha la possibilità di decidere se continuare a perdere tempo o se, perfezionando tutte le procedure che peraltro vengono sollecitate da circa 40.000 colleghi, è il caso di concedere questo beneficio a Riccardo Orioles. Ci sono precedenti specifici, come stampa parlamentare ce ne occupiamo, di un beneficio accordato in meno di 24 ore ad un'altra persona. Grazie ai colleghi che quest'estate hanno lanciato questa campagna di sensibilizzazione, è passato un po' tanto tempo, ci sono dei problemi logistici sulla composizione di questa commissione di tre persone che deve assumere, formalizzare la proposta. Insomma, credo che chi ha il dovere di intervenire possa avere, abbia avuto tutto il tempo per riflettere e abbia adesso la possibilità di dimostrare in maniera concreta da che parte lo Stato ritiene di dover restare. In nome di tutti, se posso io vorrei ringraziare soprattutto questi due ragazzi e per loro tutti i ragazzi che hanno promosso questa campagna, che sono Luca Salici che è qui e Danilo D'Aquino, perché questa è una campagna che nasce, e questa forse è la cosa più bella, spontaneamente da ragazze ai ragazzi che hanno conosciuto e lavorato con Riccardo, che hanno preso in carico questa battaglia, l'hanno sentita fortemente, ma questo è un riconoscimento a Riccardo, perché è la cosa più bella che possa accadere, una persona che non ha vent'anni, che viene riconosciuta da tanti ragazzi e ragazzi che lo avvertono come maestro di legalità nella battaglia antimafia, cioè un maestro di una generazione, ed è la cosa forse più bella che fa rivivere, se ho capito, anche lo spirito dei siciliani. Da qui nascono le 30.000 firme, che sono non solo di giornalisti, ma di cittadini e cittadini. Molte associazioni sono qui da Ossigeno, Articolo 21, Annobavaglio, ma tante altre, chiedo scusa a chi dimentico, che si sono spese, ma tante altre non solo di giornalisti e questo rafforza ancora di più questa campagna. Se è possibile, si inserisce anche, lo dico per spiegare perché è motivata, il Presidente della Repubblica Medesimo, negli ultimi due anni ha indicato quattro giornalisti impegnati sul terreno della legalità, ha dato un riconoscimento pubblico, Federico Angeli, Michele Albanese, Paolo Borrometti, Amalia De Simone. C'è quindi una nuova attenzione. Il riconoscimento dei benefici della Bacchelli a Riccardo non è un atto puramente simbolico, lo ha detto molto meglio di me e Claudio Fava, è un riconoscimento a chi si è battuto per la legalità contro le mafie. E credo che sarebbe avvertito come una vittoria collettiva dello Stato, delle istituzioni, quasi un ribaltamento. Troppo spesso sono stati onorati coloro che di fronte agli assassini hanno trescato, sono stati omertosi, hanno persino criticato questi giornalisti ammazzati a suo tempo. Io non dimentico i pessimi dibattiti di quella stagione. È un riconoscimento fondamentale che venga dato e che si faccia presto. L'ha detto molto bene Jacopino, c'è un solo problema, è morto Tullio De Mauro che era uno dei tre componenti della Commissione. Quindi con grandissimo rispetto deve essere ristabilito il plenum presso la Presidenza del Consiglio. La nostra è una richiesta, fatelo però nei tempi, diciamo, tempi rapidi se sarete d'accordo, perché questo è il modo migliore per dare un riconoscimento. Quindi che si faccia subito. Mi permetto di dire che insieme a Claudio Fava e non a caso con Claudio, con Enzo Jacopino e con loro, ci siamo permessi tutti assieme di fronte anche all'appello che farà la Presidenta del contrasto del linguaggio della violenza parlando di Riccardo, di ricordare che sarebbe ora e tempo che su un tema delicatissimo come le querele temerarie si assumesse però una decisione seria e fondata a tutela dei tanti cronisti che rischiano quotidianamente di essere, come dire, ingabbiati dentro un meccanismo diabolico e che taglia la penna a chi vuole fare le inchieste. L'abbiamo sollevato semplicemente perché ci pareva giusto legato alla storia e all'impegno di Riccardo Rioles. Grazie. Grazie a te Luca Salici. No, io solo un ringraziamento a Claudio Fava e a questi 30.000, al Presidente Jacopino, al Presidente Giulietti e a questi 30.000 che hanno firmato. Devo, cioè ringrazio tutti e nessuno perché se no appunto non mi ricordo tutti i nomi, è un casino, quindi li trovate su Facebook, insomma abbiamo fatto gli stalker e infatti proprio per questo volevo scusarmi ufficialmente col Presidente Jacopino, col Presidente Giulietti che ho tempestato di telefonate il 26 dicembre mentre ognuno era a casa sua a fare festa. e però diciamo questa cosa che è stata un po' iniziata un po' in maniera così corsara, un po' pirata su Facebook proprio in giorni di festa, ha permesso anche di far dire queste parole bellissime al Presidente Jacopino, proprio al Presidente del Consiglio Gentiloni in un giorno appunto di fine anno, però io assolutamente è giusto riconoscere l'impegno che è stato messo in questi anni da tutti, soprattutto dall'FNSI, dall'ODG in prima posizione perché l'ordine viene prima di tutti, anche quello regionale siciliano che l'anno scorso purtroppo era scivolato su una buccia di banana perché voleva cacciare Orioles perché non aveva pagato la quota, articolo 21, insomma tutti, c'è anche Paolo Butturini, insomma ho fatto il polemico solo perché volevo un po' mettere il pepe al sederino delle persone perché era anche giusto, no no non voglio nessuna querela temeraria, a proposito delle querele temerarie ricordiamoci tutti, visto che siamo tutti colleghi, che Riccardo Orioles è direttore responsabile di 300 testate e ha un milione e mezzo di querele perché molti ragazzi come noi, io un po' meno, scriviamo anche certe volte delle cose appunto che danno fastidio o facciamo degli errori, quindi tuteliamo anche questa cosa qui, nel lasso di tempo che rimarrà, tra qui è il primo bonifico da parte dello Stato, a cui teniamo tanto, sosteniamo Riccardo attraverso quello che possiamo, stiamo vendendo libri, tazze, agendine con le sue effigie, quindi se volete insomma aiutateci, soprattutto i suoi libri che sono stati sempre e comunque gratuiti, magari ora è il momento di restituirgli la bellezza di un lavoro che ha fatto per 40 anni, grazie. Grazie mille, altrimenti ci salutiamo qui. Posso dire Claudio che parlo per ossigeno, ha firmato ovviamente la petizione per Orioles, per noi, e concordando con tutte le cose dette che sono ovviamente sacrosante, per dirla in uno slogan, per noi riconoscere i benefici della legge Bacchelli per Riccardo Orioles, vuol dire riconoscere la funzione democratica dell'informazione, perché è questa l'informazione, è una funzione. Io invece non voglio fare un intervento, voglio fare una proposta ai due presidenti, mi pare che se non ricordo male l'82 è l'anno di nascita dei siciliani, giusto? E quindi sono 35 anni quest'anno. Io credo che in primavera con Riccardo potremmo organizzare un evento, Decidete voi dove, in cui Riccardo racconta testimonia insieme agli altri, ed è sarebbe una bella occasione anche per fare un ragionamento su il momento che vive l'informazione contro la mafia. Scusate, legandomi perché pensavo, facciamo anche, l'unica altra piccola polemica era stata che sono stato tutto il weekend di Capodanno a fare questi test di aggiornamento dei giornalisti, non so se l'avete visto, i crediti, quella roba tipo scimmio urlatrice cliccando. Invece di fare questa cosa, magari facciamogli fare un corso a Orioles che lo fa da una vita, quindi Paolo facciamo anche questa cosa, stiamo già scrivendo il progetto, però è giusto anche condividere queste informazioni. Grazie a tutti.